Botta e risposta Cristiano Miccoli, fuoriclasse sottovalutato? Sì, Fabrizio Miccoli ha 30 anni, dimostra di essere un piccolo grande fuoriclasse, lui la sua occasione nella Juve non l'ha saputa sfruttare nel 2003-2004, poi da allora ha un po' girovagato anche in Portogallo, è un ottimo giocatore, da un paio d'anni va sempre in doppia cifra. Il bidone della domenica ha raddoppiato questo giro? Sì, oggi abbiamo punito pesantemente quei difensori che fanno delle ciabattate all'indietro e quindi Grieghera della Juventus e Dainelli del Genoa che ha dato in là a uno dei gol del Bologna. I fondamentali lo insegnano nelle scuole calcio, imparateli. Da 0 a 10 quanto traballa la panchina di Cersei Cosmi? Secondo me traballa molto ma non troppo perché Spinelli non può permettersi un altro allenatore nonostante Cosmi si fosse dimesso in tempi non sospetti. Certo che perdono in casa contro il Siena in una sfida a derby salvezza non è un buon segno per il Livorno. Ad Ailton invece è il redd alla domenica? A 33 anni Martins ad Ailton ha segnato una fantastica tripletta, questo è un gran giocatore, sono dieci anni che è in Italia, ha giocato con Verona, Genova e Bologna, ha tre gran gol e oltretutto pensate l'anno scorso in tutto il campionato col Bologna ne ha fatto uno di gol, ne ha fatti tre ieri in soli 90 minuti. Buona notizia per quanto riguarda Mauri che resta sempre infortunato ma da mercoledì potrebbe entrare finalmente in possesso del passaporto italiano. Oh eure che arriva forse il passaporto di Mauri, io ci credo quando lo vedo, sono come San Tommaso. E forse adesso anche Mauri dice lo voglio vedere qua davanti a me poi ci crederò. Allora nazionale c'è stato il no di Nesta, Marcello Lippi c'è anche rimasto male, Balotelli rappresenta invece il futuro, queste sono le parole del CT Azzurro. Il futuro però quando il CT non sarà più Lippi immagino, quindi si toglie la spina dal sedere. Secondo me Balotelli non lo convoca e infatti questo giro ha convocato dei bravi ragazzi come Sirigu, Kossu, Bonucci. Ecco intanto facciamo anche vedere le nuove maglie della nazionale mentre appunto tu leggevi Cristiano la lista dei convocati perché è interessante. Ma c'è qualche novità, c'è il ritorno di Boriello che era dai tempi di Donadoni che non si vedeva. E questa è la nuova maglia? Sì. Beh quella bianca e quella azzurra dov'è? Arriva arriva non ti preoccupare. Ah eccola qua. Secondo te non te la facciamo vedere? Beh non mi piacciono neanche un po' quelle righe lì sulle spalle. Dai carina e graziosa. La maglia è bella quando la squadra vince. Bonucci, Kossu, il ritorno di Boriello, Sirigu, queste le novità. Sirigu, infatti adesso mi piacerebbe farvi ascoltare alcune dichiarazioni perché ieri ce l'avevamo proprio a portata di microfono. Per cui tra l'altro Buffon prima della gara aveva speso delle belle parole nei confronti di questo giovane portiere. Ha detto per alcuni aspetti mi assomiglia. Per cui ascoltiamo Salvatore Sirigu. Devo ancora accendere il telefono e festeggiare insomma con le persone a me più care. Intanto a parte la convocazione nazionale il risultato di oggi veramente ci prospetta in alta classifica ed è veramente emozionante stare al quarto posto da soli, aver battuto la Juve qua a Torino non subendo gol. Tu hai ricevuto i completi di Buffon che ha detto Sirigu e qualcosa mi ricorda? Forse per i cappelli no? Quando mi dicono queste cose, comunque provano a paragonarmi a lui un po' mi sento male perché lo so, io lo ringrazio tantissimo perché l'ho incontrato anche prima a due secondi e mi ha fatto i complimenti e per me ricevere i complimenti da quello che è stato uno degli esempi nella mia vita calcistica diciamo è davvero importante. Il fatto di somigliarli veramente lo ringrazio per quello che ha detto però io penso che il paragone sia un pochino esagerato per adesso.